Al normale cittadino sembrerà incredibile, ma le province che Renzi dice di aver abolito non solo ci sono, ma stanno anche per andare a nuove elezioni. Elezioni di secondo livello, un modo torbido per dire che non votano i cittadini, come nelle più elementari regole della democrazia, ma solo i notabili, in questo caso sindaci e consiglieri comunali. Insomma, la riforma del Rio al momento ha semplicemente privato del voto i cittadini, lasciando tutto come era prima. Una situazione da pre-rivoluzione francese, dove i sindaci stanno al clero, i consiglieri comunali alla nobiltà e i cittadini al terzo Stato, quello a cui, con una citazione più plebea, il Marchese del Grillo diceva Ma io so io e voi non siete un c***o. Quindi anche la provincia di Barletta, Andrea Trani, è ancora in piedi con il suo presidente e i suoi consiglieri provinciali, benché ridotti a dodici. Sono in scadenza e le nuove elezioni sono state fissate per il prossimo 9 ottobre. La cosa sta passando sotto silenzio assoluto. Crediamo che pochissimi cittadini ne siano al corrente, men che meno su come si stanno muovendo le forze politiche, quali sono i candidati, quali gli accordi. Come si ricorderà, le scorse elezioni videro contrapposti il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, sostenuto dal centro-sinistra, e quello di Biceglie, Francesco Spina, sostenuto dal centro-destra, vinse Spina, che poi, come noto, durante il suo mandato è passato con il centro-sinistra, con tutto quello che ne è conseguito. Per quelle del 9 ottobre, non più candidabile, l'attuale presidente facente funzioni, Beppe Corrado, il tavolo dei sindaci alla ricerca di una soluzione unitaria, una candidatura condivisa con i 12 consiglieri decisi a tavolino. Una strada non semplice, una scelta condivisa dovrebbe inevitabilmente cadere su uno dei sindaci dei co-capoluoghi. Cascella si è chiamato fuori e quindi restano Giorgino e Bottaro. Uno dei due dovrebbe fare un passo indietro. Il sindaco di Andria sembrerebbe in pull position, sia perché il suo è il comune più popoloso, sia perché qualora non si trovasse l'accordo e si andasse a liste contrapposte, deterrebbe la golden share del voto. Stando infatti alle silarante legge del Rio, per la quale i voti dei consiglieri non hanno lo stesso peso, quelli di Barletta, Trani, Bicelli e Canus insieme, valgono quanto quelli della sola Andria. Gli altri sindaci sarebbero anche disponibili a convergere su Giorgino, a condizione di una discussione globale sugli assetti degli altri enti della provincia o comunque sovracomunali, per dirla in soldoni. L'accusa è che, di qualunque presidenza o commissariamento si parli, che sia luogo il patto territoriale o altro, il criterio della primogenitura del comune più popoloso fa sì che Giorgino sia in gara a 77 bello cartallunghe e denari. Se un accordo non dovesse esserci, sembra che né Giorgino né Bottaro siano disposti a candidarsi in tal caso. Potrebbero essere sindaci di comuni minori a scendere in campo, tipo Di Feo per il centrodestra e La Macchia per il centrosinistra. Ma siamo alle congetture. I fatti sono che tra due settimane devono essere presentate le liste o in caso di accordo la lista. E al momento tutto è ancora in alto mare. La coda della tragicomica vicenda è che tutto potrebbe essere stravolto da un intervento del governo che potrebbe far slittare d'imperio le elezioni dopo il referendum sulle riforme costituzionali previsto forse per novembre, tra le quali vi è l'abolizione delle province che Renzi dice di aver abolito da due anni e per le quali si vota il 9 ottobre o forse no. Insomma, una situazione che un personaggio a noi caro è ben più seria e autorevole di chi al potere decide anche per noi descrive mirabilmente così. Grazie a tutti!